Telefonata di cortesia tra colleghi o mercato delle vacche. In un video pubblicato dal Movimento 5 Stelle Lucano, il neo-senatore Vito Petrocelli riferisce di una telefonata ricevuta dal collega del PD Lucano, anche lui, Filippo Bubbico. Nel reportage pubblicato da un blog locale, ripreso oggi in prima pagina dal quotidiano della Basilicata, l'allusione al mercato delle vacche denunciato nei giorni scorsi da Beppe Grillo sul suo blog è velata. Ma c'è. Noi, che siamo meno maliziosi, suggeriamo anche un'altra lettura della telefonata, una conversazione tra tecnici del territorio. L'architetto Bubbico, infatti, potrebbe anche aver chiamato per un consulto tra professionisti il suo collega senatore geologo Petrocelli, allo scopo di consolidare, a partire dalle fondamenta, la costruzione di un palazzo comune della governabilità in Italia. E sì che Grillo sul suo blog lo ha detto chiaramente ai suoi, attenti alla compravendita delle vacche. Tra i due, in un verso o nell'altro, il confronto è iniziato e probabilmente senza alcun riferimento all'urbanistica, anche perché, secondo quanto dichiarato dal senatore Petrocelli, la telefonata si è conclusa con un doppio invito. «Contattami, vediamoci», ha detto Bubbico, che ha trasferito sul tacuino del senatore Grillino il suo recapito telefonico. Non so come avete fatto a sapere che ho parlato con Filippo Bubbico due ore fa. Beh, che ti ha detto? Voleva fare gli auguri, voleva dire che bisogna lavorare per il bene della regione, tutti quanti insieme. Che cosa hai risposto tu? Ho risposto che quello che farà il movimento, lo sanno tutti, è uscito oggi sui giornali, che il modello che seguiremo è quello della Sicilia e lui ha ribadito che è pronto a dialogare, mi ha lasciato il suo numero, contattami, incontriamoci, vediamoci. Io ho detto certo, come no, ci vediamo in Parlamento, sarà un piaccio. Questo il breve racconto di un episodio post-elettorale che la dice lunga su quel che sta accadendo tra esponenti dei due schieramenti a caccia di un compromesso. Cattivo pensiero? Forse, anche se citando un altro senatore, Giulio Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.